ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio farvi conoscere l'hortur laser master 3 voi direte ma già ce l'ha fatto conoscere lo conosciamo in tutte le salse perché sul web su youtube sono tantissime recensioni su questo prodotto ma mancano quelle con il modulo da 20 watt infatti oggi il protagonista di questo video non è tanto l'hortur laser master 3 che sappiamo essere un ingisore laser di buona qualità fatto bene facile da montare con una bella struttura ma appunto il modulo il modulo in questione è questo che state vedendo da questa parte voglio farvi vedere quello che ho realizzato non ho fatto delle prove estreme ho provato a tagliare del materiale da 10 mm diciamo quello che si utilizza di più diversi tipi partendo da un normale abete per passare a più tipi di multistrato ma poi mi sono divertito a realizzare sia delle foto che un oggetto di grandi dimensioni proprio perché un incisore laser così potente ci permette di essere più veloce rispetto ai moduli un pochettino meno potenti giriamo l'inquadratura e guardiamo il prodotto in questione iniziamo e allora sul mio bambore potete vedere quindi l'hortur laser master 3 il compressorino adesso vi farò vedere pure e alcuni dei lavori che ho eseguito per testare questo modulo quindi spostiamolo lo sgancio si svita questo pomellino che rispetto ai modelli con il modulo a 10 watt in questo caso è un pochettino più grande quindi ci permette di raggiungerlo più facilmente e abbiamo la possibilità di posizionarlo in tre punti differenti infatti come vedete abbiamo tre fori per poter regolare meglio l'altezza poi sulla parte superiore come sempre abbiamo gli innesti dell'aria compressa il cavo che alimenta il modulo prese d'aria per poterlo raffreddare all'interno sia a destra che a sinistra con due belle ventole questo vetrino che sembra funzionare davvero bene perché effettivamente mi sono accorto che non si vede nulla quindi dovrebbe essere uno di quei vetrini che protegge poi abbiamo il sistema della regolazione dell'altezza per la messa a fuoco comodo e veloce perché basta abbassare questa levetta quindi abbiamo la distanza giusta rialzarla e quindi abbiamo la possibilità di mettere a fuoco con un solo dito senza dover smanettare con sistemi complicati che si fa un semplicissimo gesto nella parte posteriore abbiamo tutti gli innesti per poterlo collegare quindi sulla slitta e qua l'etichetta che ci informa della potenza del modulo quindi 20 watt ma guardiamolo dalla parte più bassa allora questa è la lente abbiamo un sistema di raffreddamento che arriva qua in basso con delle ventole appunto generose al punto tale che come vedrete nell'incisione di quella card in alluminio col vento si sposta ho dovuto utilizzare la colla stick come vedete però manca l'ugello per poter utilizzare l'air assist perché perché ho dovuto rimuoverlo utilizzandolo per questo materiale particolare che praticamente come se fosse gommoso quindi il materiale si è staccato dalla superficie e si è attaccato all'ugello praticamente intasandolo e infatti anche nei primi risultati dopo avere fatto questo test perché il primo che ho fatto effettivamente mi aveva deluso ma tutto dipendeva appunto dall'ostruzione proprio perché il materiale particolare un rivestimento quasi gommoso infatti questa incisione l'ho realizzata asportando il primo strato come vedete qua ci sono questi test per fare in modo che non si bruciasse le mdf che troviamo nella parte posteriore ma che riuscisse comunque a ottenere la rimozione è quasi il color legno infatti come vedete la ci sono riuscito come possiamo vedere anche da questa tabella anche se non è molto ampia sono solamente 6 per 6 quadratini abbiamo una buonissima gestione della potenza sia per quanto riguarda i tagli che per quanto riguarda il riempimento allora in questo caso utilizzato una velocità da 200 a 400 ha tagliato praticamente tutto considerando come potenza massima utilizzato il 90 per cento e guardate qua questi sono praticamente staccati non li ho staccati perché non sono caduti da soli ma come potete vedere sono praticamente già separati possiamo dire che li stacca tutti basta spingere leggermente però per correttezza preferisco farvi vedere effettivamente come è andato poi aumentando la velocità come vedete siamo arrivato fino a 700 in realtà diciamo lo stesso concetto ho lasciato quelli che si sono staccati da soli ma se lo tocchiamo si staccano quindi sono veramente solo appoggiati quindi come potenza e come finezza del punto laser mi piace perché riuscito a lavorare davvero molto molto bene questa differenza invece che vedete su queste tabelle è perché ho utilizzato in uno dei rassis e l'altro no ma a questo punto rimontiamo il nodo che ho rimosso perché l'ultimo lavoro che ho fatto è proprio questo listino prezzi quindi per evitare che si intasasse nuovamente ho preferito rimuoverlo come vedete al poterlo inserire basta semplicemente appoggiarlo e poi avvitarlo un gesto di una semplicità disarmante adesso è pronto a poter lavorare con le rassis che va alimentato quindi l'aria gli arriva da questo compressore marchiato ovviamente ortur si alimenta tramite presa 230 volte qua abbiamo questo comando con rotellina e nella parte inferiore abbiamo questi piedini anti vibrazioni del compressore non è silenzioso però le vibrazioni non vengono distribuito al piano di lavoro grazie a questi piedini che ammortizzano poi abbiamo tutte le varie prese d'aria accendiamo lo vi faccio sentire il compressore dovreste sentire anche il flusso di aria che fu riesce dal modulo qua a destra come sentite non è proprio silenziosissimo effettivamente si sente il rumore però arriva un gran bel flusso di aria al nostro modulo considerate però purtroppo che il tubicino in dotazione non è un tubicino anti piegatura quindi attenzione come lo posizionate perché altrimenti si rischia di strozzarlo c'è il rischio che poi l'aria esca un po di meno o non esca del tutto ma adesso vediamo quello che sono riuscito a fare allora innanzitutto ho voluto fare delle prove di taglio utilizzando questo abete da un centimetro tagliato perfettamente in modo pulitissimo non ci sono assolutamente segni di bruciatura io ho dei segni di bruciatura sulle dita perché poco fa ho spinto su questo pezzo che come vi dicevo è un po commoso quindi purtroppo sporca le dita e non è un materiale facilissimo da da tagliare in modo pulito anche se sul listino prezzi mi è riuscito bene però come vedete il taglio mi piace vi faccio vedere la ripresa di questo taglio vedrete come in un solo passaggio è riuscito a tagliare senza nessun problema quindi il pezzo si è staccato autonomamente poi ho voluto tagliare anche il multistrato in questo caso sono bastati due passaggi avevo avviato dieci passaggi per poterlo tagliare per vedere quanto quanti ne servissero interlomperlo quando il pezzo cadeva giù quindi vedete anche l'inizio del terzo passaggio ma si vede chiaramente che al secondo passaggio il pezzo si stacca e quindi si separa perfettamente quasi qua abbiamo alcuni segni di bruciatura però per quanto riguarda la pulizia grazie anche alle rassi sulla parte superiore non abbiamo assolutamente segni di bruciatura o comunque il classicolone che si forma con alcuni incisori laser grazie a tutti invece per quanto riguarda il fenolico sempre dello stesso spessore qua siamo 9 mm sono stati necessari ben sei passaggi e nonostante tutto da questa parte si è staccato con molta difficoltà ma il fenolico si chiama così proprio per il via della colla utilizzata contiene tantissima colla davvero esagerata in più qua c'era pure un nodo quindi non è stato semplicissimo però alla fine è riuscito a farlo riuscita separarlo carbonizzandolo però c'è riuscito quindi se dovete lavorare con spessori così elevati quindi arrivare ad un centimetro concentratevi sul legno che non abbia colla quindi della beta oppure su un compensato meglio ancora se di pioppo questa invece è una prova sull'alluminio come vedete anche in questo caso è riuscito perfettamente la potenza dell'incisore laser ovviamente ha deformato il materiale però volevo vedere come si comportasse per quanto riguarda la precisione i dettagli eccetera e sono rimasto super soddisfatto perché ha avuto una cura veramente precisissima di tutti i dettagli quindi mi piace come risultato ma d'altra parte tutti gli incisori laser a dio non riescono a farlo figuriamoci se non riusciva un incisore da 20 watt e questa invece è una foto di famiglia scattata pochi giorni fa allora guardate la precisione vi faccio vedere con mio figlio andrea perché è l'unico che ha una luce a favore eravamo in delle giostre ci sono dei fari come vedete siamo in ombra tutti in ombra mia figlia alice e andrea sono gli unici che sono venuti bene ma volevo farvi vedere come ha rispettato per esempio l'asfalto si vedono tutti i vari puntini dell'asfalto la mia bassotta nero focato in ombra quindi anche contro luce è riuscito a farla vedere così come la cucitura del jeans la borsa il telefonino messo appoggiato sulla borsa insomma si vede praticamente tutto benissimo e dettagli sono molto curati quindi anche se non è un incisore laser con un punto piccolissimo però ci permette di avere questi risultati guardate il chiaroscuro la gestione delle ombre questa è la mia polo era un polo color nocciola quindi in ombra vediamo tutte le varie piegature si vedono tutti i dettagli nonostante appunto questi disagi nella fotografia che non lo agevolavano e anche i tatuaggi sulle mie braccia quindi per quanto riguarda il dettaglio a me è piaciuto un sacco e ho scelto questa fotografia prima di tutto perché mi piaceva anche se c'è questo puntino che è finito proprio sugli occhi di mia moglie ma siamo stati sfortunati c'era questo difetto sul materiale però ho scelto questa fotografia prima appunto perché è una foto di famiglia e poi perché volevo testare questo incisore vedendo come si comportasse con questa difficoltà perché una fotografia con i soggetti sottoesposti con molta luce dietro e con molti dettagli che in realtà non si dovrebbero vedere ma riesce a farvi risaltare poi dopo aver fatto la prova che vi ho fatto vedere sul materiale con il material test del light bar sono riuscito finalmente incidere questo listino prezzi per un amico quindi ho fatto le varie incisioni il taglio eseguito senza era assist proprio perché mancava il nodo e devo dire adesso non rimasto piacevolmente sorpreso della qualità perché questa è un incisione realizzata ad una velocità di 18 mila millimetro e minuto con il 30 per cento di potenza e nonostante la velocità ragazzi è andato benissimo a me è piaciuto davvero un sacco quindi come incisore laser come modulo d'altra parte ortur lo conosciamo sappiamo la qualità di questi incisori e non mi aspettavo altro che il risultato di questo genere ma questa velocità mi ha lasciato piacevolmente sorpreso quindi ora guardiamo sito al venditore e guardiamo le caratteristiche di questo modulo e allora che mi sono posizionato davanti al monitor per farvi vedere sito al venditore vi faccio vedere pure i parametri impostati per queste incisioni queste lavorazioni come vedete 18 mila millimetro al minuto 35 per cento di potenza per quanto riguarda i riempimenti il taglio invece 350 mm al minuto 90 per cento perché non avevo l'air assist avendo fatto le prove con l'air assist non sapevo regolarmi quindi ho preferito mantenermi un pochettino più basso con la velocità invece per quanto riguarda i simboli quelli che avete visto vicino ai prezzi li ho fatti con una potenza ancora inferiore quindi 15 per cento di potenza sempre 18 mila millimetri al minuto la fotografia dell'ho realizzata a 18 mila millimetri al minuto anche questa con il 35 per cento di potenza invece per quanto riguarda il bigliettino da visita ho utilizzato 6.000 mm al minuto 90 per cento di potenza forse poteva abbassare anche un pochettino la potenza perché si è deformato il bigliettino in alluminio però è riuscito a farlo perfettamente ora guardiamo il sito del venditore questo è il nostro laser in questione l'incisore orto laser master 3 che ovviamente ha il prezzo che cambia in base a quello che sceglierete quindi questo caso bisogna selezionare l'incisore orto laser master 3 da 20 watt e poi bisogna impostare europa 220 volt e prezzo 999 euro 45 centesimi anziché 1362 euro e 89 centesimi poi ci sono diverse possibilità ovviamente di selezione come vedete potete scegliere vabbè la versione europa 110 volt ma potete sceglierlo con 10 watt insomma diverse tipologie poi dai link andrete a vedere guardiamo però le varie caratteristiche allora innanzitutto a sette sistemi di protezione quindi in caso di inclinazione nel caso di urto eccetera eccetera velocità massima 20 mila millimetri al minuto poi abbiamo la possibilità di adattare diversi tipi di accessori collegamento sia con il cavo usb oppure senza cavi e si può utilizzare tranquillamente anche l'app per quanto riguarda il modulo fa vedere tutto quello che già vi ho fatto vedere sulla sulla regolazione dell'altezza della messa a fuoco il punto di incisione che è quadrato e questa è una cosa ottima perché in ogni movimento avremo sempre la stessa risposta 0,08 per 0,08 molto meglio degli incisori laser che hanno il punto di messa a fuoco rettangolare e come vedete abbiamo cinque moduli praticamente da 5 watt ciascuno 20 watt in totale e qua in questo esempio in basso ci fa capire l'importanza di un punto quadrato perché se avessimo un punto rettangolare il movimento in orizzontale sarebbe diverso dal movimento in verticale infatti qua si vede ci sono i movimenti destra sinistra che sono più sottili invece i movimenti che vanno dall'alto in basso sono più grossi perché effettivamente l'incisore laser facendo questo movimento è come se utilizzasse un pennarello con la punta rettangolare che lascia il tratto differente poi come tutti gli incisori laser a diodo con una certa potenza se si incide regolando l'interlinea la potenza la velocità all'utilizzo delle rassi se c'era si può cambiare anche colore quando si incide sull'acciaio questo per via del calore che si sviluppa e quindi come accade nelle saldature per esempio attivo tanti altri tipi di saldatura il metallo cambia tonalità ovviamente come il fratello più piccolo 10 watt anche questo si può utilizzare sia con la sergi rbl con l'applicazione oppure utilizzando light barn quindi utilizzabile tranquillamente anche gratuitamente ma io vi consiglio di acquistare light barn che è un programma completissimo e che costa poco e quindi ragazzi se dovete prendere un caffè oppure volete fare un ordinazione al bar questo è il listino prezzi allora io spero che questo incisore laser vi sia piaciuto perché con 20 watt anche se come ripeto col 10 watt già lavorava benissimo però con i 20 watt abbiamo questi risultati eccezionali questa pulizia di incisione questa facilità di taglio insomma un incisore che fa un passo avanti che ci dà la possibilità di ottenere gli stessi risultati perché per carità con 20 watt non possiamo sperare di fare lavori di falegnameria ci dà gli stessi risultati ma molto più velocemente quindi in un incisore un incisione di questo tipo che mi ha richiesto un'ora e 40 circa con un incisore laser di 10 watt me ne avrebbe richieste tre ore e quindi la differenza c'è abissale se avete un'attività volete sbrigarvi potete riuscire a ottenere delle incisioni molto più rapidamente ma anche se dei privati che vogliono ottenere una profondità di taglio maggiore e una velocità maggiore e allora questo può fare per voi non mi rimane che ringraziarvi di avere visto il video fino in fondo invitarvi ad iscrivervi al mio canale mettere in viaggio e cliccando qua giù sul pollicione in su cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto